Il Centro Pecci è un bellissimo libro che si apre sulla storia dell'arte italiana e anche internazionale. Se il Centro Pecci fosse un libro sarebbe un libro che è uno specchio delle oscillazioni della politica e della cultura italiana. Ha vissuto un momento di grande gloria, poi forse c'è stato un momento di oblio e adesso mi sembra che stia rinascendo. Se venissi incaricato di nominare un consulente esterno per il Centro Pecci, nominerei Gianni De Michelis. Se dovessi donare qualcosa di mio al Museo Pecci, il mio guardaroba. Se potessi spostare il Pecci, lo sposterei a Miami Beach. Se il Centro Pecci dovesse diventare il padiglione della Biennale di Venezia, penso che la nazione più adatta sarebbe la Luna. Se qualcuno mi proponesse di distruggere il Centro Pecci e sostituirlo, direi che lo lasciamo così e diventa una discoteca. Cosa potrebbe essere messo al Centro Pecci che non c'è? Un Caravaggio. Il Centro Pecci finirà ricominciando.